un giovanissimo di età? 14 anni 14 anni, Andrea di dove sei? Di gioia del cole hai un cinquantino a questo punto, giusto? Ed è la tua prima gara? Sei emozionato? Sì, sì Allora, la cosa importante, casco in testa, luce accese e siamo pronti, sta per uscire il nostro amico numero 8